Amici 2023-2024, Maria De Filippi potrebbe il cast, Todaro a rischio addio. Maria De Filippi pronta a rivoluzionare il cast di Amici 2023-2024? L'appuntamento con il talent show di Canale 5 è confermato nel corso della prossima stagione televisiva Mediaset. Complice il grande successo di ascolti che ha ottenuto anche quest'anno. La trasmissione è stata premiata ancora una volta dal pubblico e, così, la padrona di casa è già al lavoro per mettere a punto quelle che potrebbero essere le novità della ventitreesima edizione del talent show. Le novità più importanti potrebbero riguardare soprattutto il cast dei professori dove, a rischiare, sarebbe Raimondo Todaro. Nel dettaglio, l'appuntamento con Amici 2023-2024 è confermato nel palinsesto della prossima stagione televisiva Mediaset. La trasmissione andrà in onda da settembre in poi su Canale 5, nel corso dell'estate. Riprenderanno i casting che porteranno poi alla scelta dei nuovi concorrenti che si metteranno in gioco all'interno della scuola più famosa d'Italia. Per la nuova edizione del talent show, però, Maria De Filippi potrebbe attuare delle modifiche e non si esclude che la conduttrice possa addirittura scegliere di modificare e rivoluzionare il cast. Al momento, infatti, i primi retroscena sulla prossima edizione rivelano che ci sarebbe un prof in bilico, trattasi di Raimondo Todaro. La sua partecipazione al talent show, quest'anno è stata caratterizzata da un bel po' di critiche e da diverse polemiche che hanno visto protagonista assieme ad altri insegnanti. Il culmine, però, si è toccato in una delle ultime puntate del serale, quando Todaro è stato protagonista di una furiosa lite proprio con Maria De Filippi. I due si sono ritrovati ai ferri corti al punto che, in fase di produzione e montaggio, si è scelto di censurare la lite verbale tra i due e quindi non mandarla in onda. Tuttavia, alla luce di questa situazione, Maria De Filippi potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di allontanare Todaro dal cast di Amici e, in tal modo, escluderlo dalla trasmissione. Todaro, però, non sarebbe l'unico prof a rischio uscita dal cast della prossima stagione del talent di Maria De Filippi. Tra gli insegnanti in bilico, infatti, figura anche il nome di Arisa. A quanto pare, infatti, la cantante avrebbe intenzione di mollare nuovamente la presa per tornare a concentrarsi solo sulla musica. Lo scopo di Arisa, infatti, sarebbe quello di prepararsi al meglio per poter presentare un nuovo brano per il prossimo Festival di Sanremo 2024 condotto da Amadeus. Quest'anno, infatti, la cantante era scoppiata in lacrime proprio durante una puntata del pomeridiano di Amici. Svelando di essere stata scartata dalla Kermese e di aver sofferto moltissimo.